Buon pomeriggio, bentrovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città, edizione culturale, ultimo appuntamento della settimana, vediamo che cosa ci riserva la serata. Cominciamo con lo spettacolo di chiusura del 63esimo pre-Italia, spettacolo che si tiene all'editorno Rai Arturo Toscanini, andrà in onda anche su Rai 1, condotto da Veronica Maia, l'appuntamento è alle ore 21. Continuiamo con il teatro, il peso della farfalla, uno spettacolo di Renzo Sicco, storia dalle montagne d'Italia, con i valori e le regole che condizionano la vita di chi le abita, al Monte dei Cappuccini alle ore 21. Chiudiamo con un altro spettacolo teatrale, si tratta di Come ridiventai direttore, spettacolo scritto e diretto da Renato Liprandi, meglio noto come il direttore di Camera Caffè, e gli attori dello spettacolo si cimentano in una serie di scene spumeggianti, in un incalzare avvincente di duetti di coppia, ma non di genere sentimentale. Alle ore 21 al Teatro Erba. Per quest'oggi e per questa settimana è tutto, io vi auguro una buona serata, un buon fine settimana, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda e ci vediamo lunedì pomeriggio.